Grazie a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con Massimiliano Ossini Salutiamo, uno, due, tre, ciao! Ovviamente salutiamo tutti i tuoi fans e ti ringrazio, sono pochi, però ti ringrazio Aumenteranno, aumenteranno Ti ho detto che non sono più i tuoi che i miei? No, 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 quello è sicuro, è sicuro Chi può dirlo? Si può dirlo, si può dirlo, diciamo anche e facciamo un saluto anche a tutti i telespettatori Di Mezzogiorno in Famiglia, di Linea Bianca, di tutta Rai 1, di tutta Rai 2, mettiamolo Che vogliamo di più, io ti ringrazio e un grande piacente Ciao, buona giornata Ciao